Il giornalerà di Vivi Centro Network Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network Direttore Mario Vollono Squadra mobile Portici Ercolano Eseguite due ordinanze di custodia cautelare Nella mattinata odierna, a Napoli, Portici, San Giorgio Acremano e Cardito Personale della squadra mobile e del commissariato di pubblica sicurezza Portici Ercolano Su delega della procura distrettuale antimafia di Napoli Ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Napoli Nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati dei reati di estorsione e tentata estorsione Aggravate dal metodo mafioso I provvedimenti cautelari compendiano gli esiti di tre indagini Condotte dai suddetti organi investigativi In merito ad una serie di episodi estorsivi posti in essere in danno di operatori commerciali E imprenditori della zona di Portici e di San Giorgio Acremano Da parte di esponenti delle sue indicate Opposte Fazioni criminali Termina così il nostro momento di informazione Chi volesse approfondire le news ascoltate Può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network ViviCentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive Grazie a tutti